ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai miei acchiapponi ebbene sì ci sono cascato ancora una volta io la mia scipietta siamo andati lo scorso weekend o domenica alla fiera di orologico no una fiera organizzata con i banchetti che vendono gli orologi vintage anche qualche micro brand c'era di orologi moderni e quindi ho fatto tre acchiappi ora io sono qua per fare questo contenuto semplice senza pretese così anche di sabato non pubblico mai quindi lo pubblico anche al sabato proprio per farvi per condividere con voi i miei acchiappi anche se uno dei tre non c'è uno dei tre non c'è perché l'ho già mandato dal dottore dal mio amico angelo a fare una revisione completa perché ne aveva bisogno e quindi poi ve lo farò vedere vi spiegherò cosa è successo possiamo partire però intanto uno ce l'ho al polso qua lo vedete già come sta bene quanto possa mai stare bene questo vinteggione qua questo longin poi vi spiego e poi il primo e dei due che sono rimasti qua a casa è questo qua questo sempliciotto qua senza in questo momento è completamente senza cinturino lo vedete un orologio che dovrebbe risalire veramente a più di cento anni fa secondo me cento anni fa qual è il problema questo mi è stato regalato questo mi è stato regalato dall'amico sebastiano che era uno degli espositori un venditore campano il quale l'ha tirato fuori no come diceva rocco sifreddi all'ultimo momento per mostrarmelo ma non era convinto neppure lui della bontà dell'orologio come non lo ero nemmeno io ci siamo un po confrontati abbiamo guardato l'orologio lui aveva fatto un ritiro quindi gli era capitato in mezzo a tutto e alla fine me lo ha regalato me lo ha regalato dicendo che insomma studia quello che è quello che non è cosa si può fare io te lo regalo dato sei un appassionato grazie sebastiano e in effetti poi abbiamo scoperto che si tratta di un orologio che praticamente ha il quadrante ristampato anzi guardate lo smonto anche ha il quadrante ristampato probabilmente negli anni 60 anche mio orologio io ho guardato il quadrante della parte posteriore e ha detto che è ristampato probabilmente negli anni 60 e delle due sfere che sono presenti probabilmente quella vera originale solamente quella con il tondo con l'anello mentre l'altra avrebbe dovuto essere a bastone una sottile striscia di metallo e però c'è di buono che il calibro invece è quello originale anzi no prima andiamo andiamo alla cassa non era sua la cassa non era sua neppure la cassa quindi abbiamo già quadrante ristampato e cassa non sua anche perché è abbastanza cioè la lunetta è cromata qua se voi ci fate caso fa la ruggine se vedete la ruggine ha fatto la ruggine cromata questo pezzettino qua è cromato la cassa non è la sua proprio completamente anzi qua sul fondello c'era scritto c'è è tutto lucidato e si vede che hanno tolto proprio una scritta una scritta che della quale rimane solo una e una g è una uno viene in mente omega magari sarà un fake non credo sia una cassa originale omega in ogni caso non è la sua per cui abbiamo quadrante ristampato per il quale non so neppure se la grafica doveva essere questa oppure se è inventata ok perché è difficile trovare io ho cercato i vari cataloghi è difficile trovare un orologio simile a questo ci sarà però la ricerca poi potrebbe anche diventare infinita il bello è che il calibro invece diciamo che è originale il calibro 13 34 calibro che è stato introdotto da rongi nel 1910 quindi stiamo parlando di più di cento anni fa e dal numero seriale che risulta sopra il calibro che è 3 milioni e rotti a me mi risulta che si tratti di un 1917 pensate un po infatti il calibro 13 34 era molto utilizzato durante negli orologi utilizzati durante la prima guerra mondiale come sapete nella prima guerra mondiale furono sdoganati gli orologi da polso che fino a quel momento venivano visti più da donna che da uomo ecco con la prima guerra mondiale si sdogana l'orologio da polso in luogo di quello da tasca e questo qua era uno di quei calibri che andava a equipaggiare quegli orologi ora la mia la mia intenzione è quella di liberarmi della cassa proprio mi la guarda la metto in un cassetto anche il vetro così com'è mi interessa e tengo solamente questo quadrante qua con il calibro messi dentro un contenitore per ricordare un calibro degli anni 10 non so di quando potesse essere questo orologio ma se il seriale mi dice 17 potrebbero averlo venduto il 18 nel 20 insomma è un orologino abbastanza vecchietto vecchietto adesso lo riassembliamo come si suol dire così va bene meglio e poi va bene questo qua me l'hanno regalato quindi a cavallo donato non si guarda in bocca poi un bel calibro degli anni che furono è anche difficile perché qua si va nell'orologeria d'epoca ragazzi quando si va nell'orologeria d'epoca più che vintage diventa anche difficile trovare gli orologi tutti originali coerenti più indietro si va più difficile quindi non sarebbe neppure il mio scopo quello di collezionare orologi degli anni 20 30 40 40 magari si mi accontento dei 50 60 70 e 80 ma anche più tutto quello che c'è ben venga a proposito di anni 70 ecco questo qua invece l'ho acquistato a un altro banchetto ed è proprio un orologio di quelle che ci piacciono tanto eccolo qua si tratta del longin admiral del 1973 perché i numeri il seriale sul calibro indica 52 milioni 760 mila ed è più o meno databile al 73 74 giù di lì sapete che poi non è precisissima no la la datazione e qual è la particolarità la particolarità è che il quadrante era blu e qui è completamente virato praticamente se si ingrandiscono le immagini si può notare che qualche traccia di blu c'è rimasta ma l'ottone sottostante è venuto fuori praticamente se fosse un rolex si chiamerebbe il quadrante tropicalizzato perché fa più più figo invece qua diciamo che si è consumato si è consumato il colore è venuto fuori questo marrone e a noi ci piace tanto praticamente è tutto originale bracciale originale fibia originale fibia scatoletta originale corona originale in tutto e per tutto e la particolarità anche di questi orologi qua braccialati così quando si fa cercare il vintage uno dei miei problemi è quelli quando trovi un orologio con bracciale in metallo solitamente non ti sta perché un po solo dei 19 le maglie extra sono sicuramente andate perse come non c'è né scatola né garanzia quindi ti trovi un orologio con bracciale in metallo piccolo che non ti entra nemmeno nella mano e quindi devi magari rinunciare un bello orologio perché non è della tua misura e andare a cercare le maglie diventa poi si trovano magari ma diventa anche un po una cosa fastidiosa ecco in questo caso l'ho trovato esattamente con il bracciale della lunghezza giusta anzi anche di più perché l'ho messo al terzo forellino e ancora diciamo un centimetro di escursione per prenderlo più grande figuriamoci un po chiaramente bracciale è bello vissuto bello morbido come si vede è un orologio del 73 a 50 anni passa il tempo sono 50 anni il fondello a vite e all'interno c'è il calibro l 633 che altri non è che l'eta 28 24 eccolo qua il classico esempio dell'orologio longine che iniziava a mettere i calibri di fornitura anche se non mi ricordo set a quel periodo lì era già in sinergia ma forse no c'è da dire che longine poi ha continuato a fare i suoi calibri di manifattura automatici perché è di qualche anno dopo il 990 e l'890 quelli con doppio bariletto che sono gli ultimi calibri automatici di manifattura fatti da longine quindi quello che voglio dire io è che se qua non mettevano il 990 se non l'avevano già fatto è perché lo consideravano probabilmente un entry level per tenere giù il prezzo basso infatti ho trovato su un catalogo del 72 una cosa curiosa che un grafico che mi va di dividere con voi praticamente dove c'è la piramide la piramide della qualità dove si parte notate bene cosa c'è in cima alla piramide l'ultra quartz l'ultra quartz l'orologio al quarto nel 72 di longine veniva identificato come la punta di diamante della collezione dell'offerta di longine al secondo posto l'ultronic cioè il calibro elettrico al diapaso poi al terzo posto il flagship che è la miraglia diciamo di longine che sono gli orologi eleganti c'è scritto proprio qua disegnato e concepito per l'uomo e la donna raffinati poi allo scalino successivo e questo mi lascia un po perplesso l'ultracron quello 36.000 alternanzi orari l'automatico che viene consigliato il quarto scalino di tutta la famiglia pensate come ragionavano a quel tempo lì poi c'è il conquest una famiglia storica e in ultimo alla base admiral che è proprio l'orologio che ho qua io quindi veniva consigliato l'entry level nel 72 l'admiral e questo però a me piace tanto piace tanto perché perché il classico la classica forma di orologio a cioccolatone tv il diametro cassa se così si può dire la larghezza 37 mm al pulso e sta bene cioè sembra quasi un orologio moderno con il bracciale integrato così il sottile abbastanza il vero è un plexiglass ragazzi è automatico bello è un bello orologio anche anche virato così ce n'era uno blu stesso modello blu perché non è raro ce ne vedono tanti anche su internet blu però non aveva la corona originale e quindi ho detto se non ne trovo altri lo prendo poi lo sbattimento di cambiare la corona si sorpassano poi invece ho trovato questo virato allo stesso prezzo praticamente con la corona originale ho deciso di prendere questo anche così virato al suo perché probabilmente è stato molto alla luce del sole è fatto questo ma non è il primo orologio blu degli anni che furono che vira in questo colore così dorato è perché anche mio amico piero aveva un bright link cronomat che in origine era blu è di questo colore diventato probabilmente ci poteva essere qualche difetto in quelle vernici che utilizzavano e i difetti vengono fuori solo nel lungo termine non è che dopo due tre anni ti accorgi detto questo c'è qualcosa altro da dire no non c'è altro da dire va bene è un orologio un po così un longin che a livello di contenuti tecnici non è che ha molto da offrire se non che l'età 28 24 nel 73 74 era le prime armi era una novità perché se non mi sbaglio stato introdotto nel mercato nel 71 quindi era uno dei primi e tra 28 24 che venivano utilizzati e cosa cosa si può riassumendo cosa si potrebbe anche dire che negli anni 50 60 sto collezionando gli lungini quello che vai a ricercare proprio veramente il calibro noi contenuti tecnici aggiunti laddove anche magari le forme l'aspetto lascia un po il tempo che trovano perché sono tutti orologi classici praticamente uno uguale all'altro molto simili c'è sempre quella eleganza canonica di quegli anni orologi a 33 34 35 mm a esagerare tutti belli eleganti puliti sottili no mentre negli anni 70 e anche 80 si incomincia ad andare a giocare sull'aspetto estetico sul design in maniera incisiva per cui hanno meno valore magari a livello di contenuti tecnici di calibri ma hanno sono più belli a vedersi cioè ci giocano maggiormente con il design cioccolatone rettangolari disco volante ovali cassa cuscino quindi negli anni 70 si va a trovare anche orologi braccialati che hanno che stanno bene al polso anche al giorno d'oggi no nel senso questo qua è tranquillamente un orologio super sportivo moderno se non rifacesse questo orologio così 37 millimetri magari anche un po più sottile loro ci possono mettere la 28 92 adesso e con il bracciale così magari un pochino ristilizzato secondo me farebbero un figurone l'admiral farebbero tanta roba ragazzi non ho più nulla da dire non c'erano dei contenuti super interessanti nel senso di notizie nozioni che vi lascio lì studiate un video semplice vi rimando poi al successivo video quando mi tornerà il terzo orologio che l'avete visto anche un pochino prima cos'era il terzo orologio mi arriva magari faccio un video anche con il mio orologiaio lo invito qua perché la sistema d'apertura della cassa un po particolare io non me la sento di aprirlo potrei anche però viene lui magari ci spiega cosa ha fatto quale intervento il perché e per come può essere interessante no sanzi se per voi è interessante che venga l'orologiaio qua a casa mia lasciate un commento dite fallo venire come disse davide cecchini boh ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto eh io non è che posso star qua a farvi vedere gli orologi vintage ad libitum devo anche chiudere quindi vi ricordo gli appuntamenti fissi che sono come sempre quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao